ciao a tutti oggi voglio parlarvi di guido paci è un mio coetanino come me aveva iniziato a correre tardi era un tipo anticonformista è un doppio pilota anzi triplo pilota di moto ma pilota anche di caccia per l'aeronautica militare eppure pilota di bob e insomma la velocità era la sua grande passione purtroppo ha perso la vita a imola nel 1983 proprio nella curva in un incidente ad altissima velocità è passato tanto tempo però sono tantissimi gli appassionati che non lo dimenticano anzi qualcuno di loro mi ha chiesto di ricordarlo c'è un motoclub che porta il suo nome e anche un raduno dal 1991 marchigiano di servigliano classe 1949 era un pilota di carriera militava nella base di cameri maresciallo del 53esimo stormo caccia intercettori era alto e atletico completamente pelato con due grandi baffi alla tartara sorriso sempre pronto sguardo brillante inconfondibile lui e la moglie elen tedesca erano una presenza fissa nel box io ricordo nel 76 quando fece le sue prime esperienze tra le derivate di serie con una onda 504 è proprio quell'anno aveva anche conquistato la medaglia di bronzo ai campionati europei di boba 2 e due titoli italiani prima di quello poi nel 79 fu campione italiano junior con la suzuki rg 500 e due bellissime vittorie a monza e a imola e così passò nel l'anno dopo tra il senior aveva già 30 anni e però è ancora pieno di energia e soprattutto era molto molto veloce la sua yamaha tz 500 nell 81 era rosa ve l'ho detto che era anticonformista qualcuno lo chiamava per questo la pantera rosa altri invece kojak per via della testa lucida come telly savanas l'attore che interpretava nei telefilm appunto l'ispettore kojak fu dodicesimo nel mondiale di quell'anno vinto da lucchinelli e fece delle bellissime gare fu sesto a monza nel gran premio delle nazioni per un soffio battuto proprio da lucchinelli poi fu nono a rieca ad assen e fu ancora sesto a imola mettendosi dietro piloti del calibro di middelburg e fontà insomma era forte poi l'anno dopo la moto era un po fragile per cui non concluse granché ma nell 83 ecco quella che sembrava una magnifica svolta e cioè la onda italia lo volle sulle nuove onda rs 500 r tre cilindri derivate dalla moto di fred spencer quella era una bellissima moto però con un grosso difetto un avantreno poco sincero guido fu ottavo nella prima prova del 1983 al ma e poi si andava a correre la 200 miglia di imola 200 miglia che quell'anno si sarebbe disputata su due manche e la prima manche andò a kenny roberts la gara non aveva più lo smalto dell'epoca d'oro però c'erano pur sempre 100 mila spettatori dunque una gara importante nella seconda manche kenny roberts andò subito in fuga la sua yzr probabilmente era superiore però dietro di lui uncini lucchinelli e proprio paci cominciarono a darsi battaglia e fu una bella gara ma purtroppo molto presto al quarto giro guido perse l'avatreno della sua onda oltre 220 all'ora in quel curvone velocissimo che precede la tosa e che adesso è stato rallentato da una variante che si chiama curva villeneuve purtroppo allora all'esterno c'era il guardrail in qualche modo coperto dalle balle di paglia ma il colpo fu fu fortissimo guido paci riportò lesioni molto gravi alla testa e al torace e i medici della clinica mobile anche se forse starano un soccorso rapido immediato non poterono fare niente e lui perse la vita a distanza di 37 anni dunque mi piace ricordare uno come guido paci oggi sarebbe un settantenne lo immagino sorridente alle rievocazioni storiche quelle belle manifestazioni che si fanno per ricordare il passato invece purtroppo se n'è andato come tanti altri e non dobbiamo assolutamente dimenticare quelli che hanno vissuto la nostra stessa passione e che hanno pagato per il loro entusiasmo un prezzo troppo alto ciao ciao